Uno degli effetti peggiori del rialzo dei tassi di interesse per combattere la questione dell'inflazione non è tanto la discesa degli asset finanziari, che ovviamente scendono nello short term, ma è il rialzo del tasso di interesse dei mutui, ragazzi, sulle case, non solo quelli che sono ancora da fare, quindi mutui che devono essere in pratica ancora contrattualizzati, ma soprattutto anche quelli vecchi di chi aveva contrattualizzato un mutuo a tasso variabile e che in pratica si vede i tassi raddoppiati, ma anche di più a dire la verità, saliti in maniera considerevole e con un impatto sulla rata del mutuo enorme, ragazzi, e questo è veramente un impatto quasi come un altro affitto di un immobile o addirittura un quarto di stipendio per moltissimi. Allora, quando il tasso dei mutui sul tasso variabile, ovviamente che impattano sul tasso variabile, scenderà, ragazzi, quale è la previsione nei prossimi anni? Cosa dobbiamo guardare? Quali sono effettivamente i dati da cui dipende questa questione qui? E quindi un po' anche il campanello su quando, teoricamente, converrebbe dare un'occhiatina magari al mercato immobiliare, se state cercando casa, e andare poi a decidere effettivamente di contrattualizzare un mutuo, ma anche per alcuni speculatori come me, magari il change da tasso fisso a tasso variabile. Allora, ragazzi, oggi parliamo di questo argomento, il rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, noi interessa la Banca Centrale Europea, in questo caso è stato da record storico, perché stiamo andando a toccare il più alto tasso di interesse degli ultimi 25 anni. Non ci credete? Eh, faccio vedere. Allora, ecco la tabella, ragazzi, questo dal 1998 al 2023, il tasso ovviamente più basso è stato 0, quello che abbiamo avuto per un decennio, più o meno, e il tasso più alto è stato 4,75. Attualmente, ragazzi, il tasso rialzato proprio nei giorni scorsi è 4,50, quindi manca un ultimo hype, un ultimo rialzo di 0,25 basis point per arrivare ai massimi storici dei tassi di interesse degli ultimi 25 anni, ragazzi. Un evento epocale, oserei dire, ma anche estremamente importante che vi fa anche comprendere come l'attuale fase sia delicata, anche da un punto di vista di controllo dell'inflazione, di come è stato difficile in effetti controllare l'inflazione, che come vedremo anche in questo video non è per niente ancora sotto controllo, ci sono tante cose da andare a vedere, ma è questo il motivo principale per il quale ovviamente il tasso sui mutui è estremamente salito, perché c'è una relazione, per chi ovviamente non lo conoscesse, tra il tasso di interesse variabile e il tasso sui mutui è il tasso di interesse della Banca Centrale Europea. In sostanza si pareggiano l'Euribor, che effettivamente poi è il tasso sul quale viene calcolato il tasso sui mutui, dipende sostanzialmente dal tasso della BCE, ragazzi. Allora questo è sostanzialmente l'andamento, le previsioni dell'andamento dell'Euribor, e su questo Euribor le banche vanno a creare il vostro contratto di mutuo a tasso variabile. Ma qualcuno starà già dicendo, vabbè io lo faccio a tasso fisso, non mi importa. Non è così, perché anche il tasso fisso, l'IRS, l'IRS, dipende strettamente dal tasso di sconto della Banca Centrale Europea, ma è una previsione a lungo periodo. In sostanza cosa succede quando il tasso di interesse della Banca Centrale sale? Sale l'Euribor immediatamente, ragazzi, però si aggiusta anche il tasso fisso per le nuove emissioni, quindi per i nuovi mutui. Se voi dovete andare a contrarre un mutuo da qui in poi per i vecchi, resta quello fisso. Ma per i nuovi, quindi se dovete acquistare una casa in questo momento, fare tasso variabile o tasso fisso non cambia granché, anzi, forse sarebbe meglio fare il variabile in questo contesto. Ma magari lo vediamo poi più in là. Perché il tasso fisso si è già adeguato agli attuali tassi della Banca Centrale Europea. In sostanza è stalito anche il tasso fisso. Se infatti qualche annetto fa il tasso fisso era praticamente quasi zero, in questo caso, vedete, l'IRS anche per mutui che sono fatti a 15 anni o addirittura a 30 anni, si aggira intorno al 3,30 o 3%, quindi non così difforme dall'attuale Euribor, che in effetti è intorno al 3,40 in questo caso, quindi attualmente 3,40. Dovrebbe continuare a salire nei prossimi mesi, però sostanzialmente non è difforme, anche perché poi il mutuo contratto a un tasso fisso poi resta quello, ragazzi. Quindi poi dovete contrattualizzarlo se ci sarà una fase di discesa e volete cambiare il tasso. Quindi in questo contesto capite bene quanto è importante sostanzialmente la dipendenza del tasso dei mutui dalla tasso di sconto della Banca Centrale Europea. Tutto legato insieme, come sempre avviene nell'economia, quindi quando salgono i tassi salgono sia quelli fissi per le nuove emissioni, sia quelli variabili per le nuove e per le vecchie emissioni. Quindi cosa succede in pratica? Si va a creare una fissa rete, ma il tasso di interesse e di sconto della BCE dipende da cosa? Dipende dal tasso di inflazione sostanzialmente, dalle condizioni economiche e da altre questioni. Quindi in pratica tutto dipende dai dati economici di base, che sono il prodotto interno lordo, la disoccupazione, l'inflazione nel territorio, la presenza di moneta, la quantità di moneta. Allora, tutti questi fattori vanno a impattare sul tasso di interesse che a scalare va a impattare sull'euro libero, sull'euro risse e quindi il vostro tasso di mutuo. Quando scenderanno questi mutui? A questo punto possiamo già rispondere la questione qual è, cioè bisogna guardare le condizioni economiche. Punto primo, la condizione economica più importante da andare a guardare è la recessione che potrebbe avvenire o meno nell'arco dei prossimi mesi. Nonostante però il rialzo dei tassi, la BCE non stima, ragazzi, un avvenuto rialzo, diciamo, crash della questione economica. Quindi questa benedetta recessione non viene stimata neanche dalla Banca Centrale Europea. Infatti se noi andiamo a vedere il GDP growth, che è ovviamente il PIL in previsione di quello che si aspettano per i prossimi anni, 2024-2025, è teoricamente positivo. Quindi in realtà non c'è un PIL che va in recessione e questa cosa è abbastanza significativa. Quindi teoricamente il rialzo, l'abbassamento del tasso di sconto e quindi anche il fatto che il tasso del mutuo possa scendere non dipenderà nei prossimi anni dalla questione della recessione. Una narrativa che abbiamo iniziato da inizio anno, io vi avevo anche un po' accennato alla possibilità che in questo particolare contesto ci fosse il cosiddetto soft landing, quindi un atterraggio morbido senza recessione, nonostante il rialzo, come abbiamo visto, massimi storici dei tassi di interesse degli ultimi 25 anni. Questa cosa, se dovesse essere corretta questo tipo di previsione, ovviamente sbagliano anche loro, a volte anche un po', no? Errorini voluti, no? Per non allarmare. Però se dovesse essere corretta ci dice che la dipendenza dalla recessione non c'è e quindi il tasso del mutuo non potrà scendere perché noi andiamo in recessione. Quali sono quindi le altre variabili? La disoccupazione potrebbe essere anche un'altra variabile, per esempio negli Stati Uniti è molto importante, ma anche in questo caso l'employment rate stimato dalla Banca Centrale Europea è in rialzo, sì, ma in maniera insignificante, 0,1% anche quello italiano, a dire la verità, non soltanto quello europeo, è previsto stabile nei prossimi anni, quindi sostanzialmente neanche la questione del tasso di disoccupazione potrà impattare. In sostanza, andiamo al Sodom, da cosa dipenderà? Dipenderà totalmente, almeno questi sono i dati attuali, dal controllo del tasso di inflazione da parte delle banche centrali, quindi l'unico neo che dobbiamo sciogliere per capire se il tasso del mutuo che avete contratto in questo momento o quelli nuovi, quindi converrà insomma magari contrarli a tasso variabile, potranno scendere, sarà solo e unicamente dipendente dal tasso di inflazione, dal controllo del tasso di inflazione della leva dei prezzi. Leva dei prezzi che a quel punto, una volta controllata, permetterà alle banche centrali di riscendere il tasso di interesse, ma attenzione, perché scendere il tasso di interesse probabilmente non significherà mai più, non lo sappiamo questo mai, però con buona probabilità sarà molto lontano la possibilità di scenderlo di nuovo a tassi 0, come è stato negli ultimi decenni, quindi probabilmente il tasso di interesse della BCE potrebbe scendere, ora vediamo anche quando, vi faccio vedere le previsioni quando sono previste queste cose, ma ve l'avevo già accenato in qualche video, ma resterà sostanzialmente più alto, non andrà al tappeto, non toccherà il fondo, quindi già questo vi dice che chi ha il tasso variabile deve abituarsi sostanzialmente ad un tasso superiore a quello che aveva qualche annetto fa, perché quelli di qualche annetto fa probabilmente non ci stanno più e ci dicono ciao ciao, ma questo è anche un bene perché vuol dire che il sistema economico è florido, perché quelli che avevamo precedentemente erano tassi di interesse estremamente pericolosi. Andiamo a vedere la previsione legata alla questione dell'inflazione, dove l'ho messa? L'ho messa da qualche parte ragazzi, ma adesso li trovo subito. Eccolo qui, allora, il grafico legato al tasso di inflazione per i paesi europei, intanto altissimo nel 2023 resterà molto alto, questo è una media tra le altre cose, ci dice che il tasso di inflazione del 2023 è stato intorno al 5,5%, finirà così, ormai siamo a chiusura dell'anno, questo significa anche ragazzi che quello reale molto spesso è più alto, capite bene in questo contesto, con un tasso di inflazione di questa levatura, quanto è importante proteggersi attraverso l'investimento non soltanto nei mercati speculativi come le criptovalute e bitcoin, ma bitcoin, quanto diviene un fattore fondamentale da conoscere in un contesto del genere dove avete visto l'inflazione essere importante, dove i prossimi anni comunque non avremmo tassi zero, dove sostanzialmente avere un bene rifugio anche per la questione euro che abbiamo trattato nel video precedente, anzi vi lascio il video sopra la mia testa, quanto è importante la questione cripto, la diversificazione, eccetera, iniziate a studiare se ancora non l'avete fatto questo settore, è molto importante, ma è molto importante anche investire ragazzi e conoscere una serie di strumenti che proprio con i tassi ai massimi storici diventano strumenti ghiotti importanti e anche estremamente forze speculativi nei prossimi anni proprio a causa di quello che andiamo a vedere oggi, quindi della questione del mutuo che è così. Allora, tassi di inflazione previsto in discesa nel 2024, ma guardate, comunque non è previsto essere al di sotto del tasso del 2% che è l'obiettivo della banca centrale, dan 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 dan, campanello d'allarme anche in questo contesto, perché se nel 2024 il tasso di infrazione sarà più o meno controllato ma non a target, non vuol dire che il tasso di interesse inizierà a scendere, perché vuol dire che ancora serve da tamponare e questo già vi mette il campanello d'allarme su quando scenderanno i tassi dei mutui e poi 2025 previsto finalmente vicino al target del 2%, 3% che è poi il target del classico del BCE del tasso di inflazione, quindi questa somma dato è fortemente, ragazzi, significativo proprio in virtù di questo concetto noi possiamo già andare a dire che sostanzialmente la questione legata ai Q1, Q2 e Q3 deve essere in pratica modificata anche in base alla questione del tasso di inflazione. Andiamo a vedere quindi quando è previsto l'inizio magari di una fase discendente, quando è previsto il picco del tasso Euribor e quindi il picco, ragazzi, dell'innalzamento del vostro rata, del mutuo, che botta, eh? Che botta! Allora, andiamo a guardare il tasso Euribor, ragazzi, che ci dà già delle informazioni molto lineari per le previsioni che sono già ovviamente associate ai dati sulla questione del tasso di inflazione. Allora, tutta questa zona, quindi noi siamo in questa parte qui, settembre, ottobre, novembre, è previsto un continuo innalzamento fino al primo trimestre del 2024. Quindi il tasso di interesse sui mutui continuerà a salire, scusate, fino al primo trimestre del 2024. Questa è una cattiva notizia, ovviamente, però ci dice anche un altro dato, non salirà tantissimo rispetto a settembre, un pochino sì ad ottobre, ma da ottobre sostanzialmente continuerà a salire un po', quindi non tantissimo, si stabilizza intorno al 4%, 4, 4 e 20% in sostanza. Però, in pratica, bisogna andare a ragionare con l'idea che effettivamente da qui in poi il tasso continuerà a salire. Guardate tutta la struttura finale e comunque ci vuole marzo per vedere un tasso di interesse e raggiungere, teoricamente, la sua zona di picco tra gennaio e marzo del 2024, il Q1, in pratica, del 2024. Dal Q2, quindi, inizieremo a scendere. Allora, abbiamo visto le previsioni del tasso di inflazione che non sono rosee nemmeno per l'anno successivo. Quindi è possibile che, sostanzialmente, avremo una fase ribassista del tasso di interesse Euribor non subito dopo il top, ma bensì dopo una fase di stagnazione, quindi qualche mese di riposo da marzo in poi che dovrebbe essere più o meno fino a giugno. Quindi la struttura dell'attuale tasso di interesse, ragazzi, fino a giugno 2024 resterà più o meno la stessa, senza grandi notizie. Poi, considerate anche che questi tassi sono previsti attuali, ma vanno poi, ovviamente, attualizzati, quindi modificati in base a quello che avremo nel prossimo anno, quindi le condizioni del tasso di inflazione, se effettivamente sarà sotto controllo. Tutte queste previsioni sono legate anche al fatto che non ci siano eventi straordinari di nessun tipo, quindi in questo caso, appunto, dobbiamo anche tenerne conto. Da giugno, quindi, in poi, luglio, agosto, settembre, ottobre, si inizierà probabilmente a vedere ad un assestamento del tasso di sconto del mutuo Euribor e di conseguenza anche in questo contesto caleranno probabilmente anche i tassi IRS e vi faccio anche vedere il discorso che vi dicevo prima. In questo contesto non è conveniente, per esempio, fare un mutuo a tazzo fisso in quanto anche se andiamo a stimarlo più o meno a 25-30 anni avremo un tasso intorno al 3%. Quando, teoricamente, entro un anno, il tasso Euribor dovrebbe iniziare ad essere sotto il 3% settembre, vedete, del prossimo anno. Quindi, significerebbe anche avere, sì, un tasso più alto per il primo anno ma poi vederlo discendente anche nel 2025. Quindi, teoricamente, guardate, la campana discendente del tasso Euribor soltanto nel 2025 e neanche, ragazzi, in maniera consistente vedremo scendere il tasso dei mutui. In sostanza, per chiudere il discorso, tassi dei mutui in questo momento avranno una campana rialzista entro i prossimi mesi da lì in poi ci sarà una stabilizzazione fino a giugno del 2023 e se questi dati vengono confermati e non ci sono shock di mercato ed eventi straordinari inizieranno a scendere sostanzialmente solo da giugno in poi per arrivare a tassi accettabili ma comunque più alti di quelli degli anni precedenti solo ed esclusivamente da maggio del 2025 dove teoricamente andremo a scendere sotto il tasso del 2% per poi, in pratica, fermarsi lì. È probabile che poi il tasso del 2%, l'1,5-2% sarà oggettivamente da accettare. Allora, queste sono le previsioni. coincidono con quelle che vi aspettavate ma soprattutto la scelta del attuale mutuo se qualcuno di voi deve contrarre un mutuo in questo momento conviene farla a tasso variabile se questi dati sono corretti. Tasso fisso dall'anno prossimo in poi quando scenderà chiaramente e si aggiornerà a questi livelli. Attenzione perché questi dati ci danno anche un altro grande dato importante cioè se i tassi scenderanno vuol dire che uno strumento di investimento in questo momento è il più ghiotto di tutti per i prossimi due anni. Chi indovina? Facciamo un video su questa cosa. Scrivetelo nei commenti qual è l'asset finanziario, lo strumento e non sono cripto e bitcoin quelle sono sempre il top per me. Allora, quale altro asset a parte bitcoin può essere un asset dei prossimi due anni molto ghiotto per fare una speculazione? Scrivetelo nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!